Fere siamo punta a capo, siamo di nuovo dispersi nel nulla, però c'è una nota positiva, questa volta abbiamo un sacco di spazio, guarda, posso addirittura a muovermi, Fere guarda che bello, hai visto? In effetti sì, non siamo più su un blocco, però siamo su un albero, che non è una cosa positiva, Steph, ma perché finiamo sempre in questi posti? E ragazzi, come va? Io sono Fere, Niki E sono Steph, che si giocava Minecraft E benvenuti in un nuovissimo episodio di Minecraft in cui cercheremo di sopravvivere sopra un albero, ebbene sì, proprio un albero Esattamente, non sarà per nulla semplice Allora Fere, puoi notare diverse cose, abbiamo tantissime isole intorno a noi questa volta, però dobbiamo arrivarci Perché questa volta non abbiamo nessun oggetto, partiamo totalmente senza oggetti nel nostro inventario, appunto abbiamo delle isole vicine, che se noti hanno diversi blocchi utili Perché vedo, lì, degli alberi, quindi legna, poi lì abbiamo dei bone block, quindi bone meal, tantissima, acquitali, bellissimo Poi lì abbiamo tranquillamente della cobblestone, però è bella lontana quell'isola, non è facile arrivarsi E vedo anche un'ultima isola che sembra una sorta di oasi, però non si vede bene da qua perché abbiamo gli alberi che coprono In ogni caso Fere, partiamo prendendo questa legna Cerchiamo di prendere anche un sapling, quindi se vuoi magari distruggi qualche foglia nella speranza di avere un po' di fortuna E io inizio a distruggere tutta questa legna Non so quanti blocchi riusciamo a prendere da quest'albero E poi attenzione, perché se poi sbagli fici sotto, Steph Eh lo so Fere, infatti sono un po' preoccupato Allora di sicuro questo non è ancora l'ultimo, perché vedo ancora foglie Questo potrebbe Ok, ok Oh, un alberello Come faccio? Allora, ah ma c'è un blocco di terra No è un blocco sotto, sì, io da qui lo vedo, però Steph c'è un problema Dimmi Mi stanno sparendo le foglie sotto i piedi Cosa vuol dire? E ho molta paura, stanno iniziando a sparire Ah, eh Fere Fammi qualcosa, fammi un blocco prima che finisca in terra, Steph Anzi in terra, nel vuoto Vieni Fere, vieni, 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 vieni Ok, ok Non ci avevo pensato, hai preso un alberello quindi Due, due Mi è appena caduto un'intesta Eh allora possiamo andare, forza, forza Ma secondo te bastano questi blocchi per arrivare lì? Poi, io lo sai che con le distanze faccio parecchio schifo, vedi te? Mi sembra di sì, perché ne ho ancora 15 Ci siamo? Quindi credo di sì Eh sì Però abbastanza giusti giusti, eh, vediamo Vediamo Ce li diamo Sì, dai Anche con un bel, guarda, facciamo anche un salto? No No, sbattiamo nelle foglie, non è una buona idea Ok, eccoci qui Allora, ci sono rimasti sei di legna Quindi qualcosina già avanzata, non è male E siamo in una piccolissima isola, ok Con due alberi È terra, tanta terra Prima di tutto vediamo se troviamo almeno un semino per fare del grano Ok, ok Secondo me potrebbe essere utile Dopodiché ovviamente distruggiamo i due alberi Ripiantiamo dei saplings e andiamo avanti Io niente, tu? Niente, due fiori se li vuoi, Steph L'unica cosa che ho trovato Bella fortuna, eh Bella fortuna, Fer Complimenti sia a me che a te, guarda Davvero, davvero bravi Guarda, piazzo questa qui per adesso E iniziamo a distruggere gli alberi Tu fatti quello lì, io faccio questo Appena possibile Magari ci facciamo anche già degli utensili Dato che ci serviranno ovviamente dei picconi Sarebbe ottimo Per andare a prendere le cose lì E dopodiché ho notato una cosa Dimmi cosa hai notato, Steph Ti vede chiaramente che quest'isola è fatta da tre blocchi di terra Sì, si vedeva anche dall'albero in cui eravamo Stavo pensando Perché non scaviamo per sfruttare tutta la terra che abbiamo Espandiamo di parecchio per avere più spazio per gli alberi E per eventualmente piantare dei semini che non abbiamo trovato Sì, buona idea Aspetta Che c'è? Io ho un semino Com'è un semino? Non l'ho visto Non te ne sei accorto? No, cioè io Ma come hai fatto a non accorgertene? Io ho visto che non l'avevo trovato Poi adesso ce l'ho nella barra Vabbè, Fer Meglio, meglio Almeno un semino ce l'abbiamo Almeno uno ce l'abbiamo Meglio uno di niente Riusciremo a farne altri E prima o poi riusciremo anche a mangiare in questa serie Che faccio? Addirittura a mangiare Inizio a scavare? Sì Allora, quanti blocchi sono? Allora, teoricamente ce ne sono due Quindi puoi bucare due volte Ok, una È corretto? Non si è cascata? Credo di sì Allora, per ora faccio il primo strato Poi vediamo per il secondo No, io sono già al secondo e sto iniziendo a bucarellare tutto Ok, perfetto Ok, attenta a non far cadere la terra per terra Eh, no, 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 infatti L'hai capita? Sì, ho capito Ho capito, Steph Sto cercando, infatti, di non far cascare nulla Questa è la mia frase, ok? Va bene, ma non era una battuta la tua La mia era una battuta L'hai capita la battuta? No, allora non l'ho capita Non l'hai capita? Cosa stavi dicendo? Non far cadere la terra per terra Doveva essere una battuta? Oh, sì È molto triste Un gioco di parole se non vuoi dire una battuta, no? No, no Bociato? Sì, totalmente Ma proprio rimandato A un altro anno, Steph A un altro anno di battute? Sì Quando magari le tue battute andranno di moda Come si chiama la scuola delle battute, però, Fer? Scuola di barzellette Scuola di barzellette Ok, io ho 28 di terra Tu quando ne hai? Io ho 21 Perfetto Allora, allarghiamo verso tutti i lati? Va bene? Sì, sì, sì Inizio ovviamente anche un pochettino ad allargare verso l'oasi Che così risparmiamo anche altri blocchi per farci il ponte Io sto allargando di due tutto qui Così è parecchio più grande Faccio di due anche qui Stavo per cadere di sotto Inizio a fare un bel ponticello Stiamo andando bene? Te lo dico Sì, non è male Anche perché adesso prendiamo il buon blocco Facciamo buon milo Facciamo crescere tutti questi alberi E abbiamo di nuovo una scorta infinita di legno Esatto Che è ottimo Esatto Sai cos'è il problema? Che in questo server c'è word edit Quindi noi non possiamo usare l'ascia di legno Quindi per tagliare gli alberi più in fretta Dovremo cercare di arrivare fino all'isola successiva Per fare quella in pietra Per fare quella in pietra E lì non ci arriviamo ancora Quindi adesso noi magari facciamo anche crescere questi albere lì Però ci tocca con le nostre manine 42 ore a distruggere blocchi Non è proprio il massimo Aspetta che vedo se mi esce almeno un piccone Per prendere la bon meal Oh, ne è già cresciuto uno, Steph Ma Non abbiamo bisogno neanche di bon meal Come è possibile? Mi sono girate È apparso in quel momento Vabbè Cioè negli altri video ci mettevano 72 ore Oh, meglio di niente L'unica volta che c'è la donata bon meal Cresce subito Eh, non ci lamentiamo Dai, va bene così Inizia a distruggerlo, Ferre Ok, sì, vado Inizia a distruggerlo Così prima arriviamo al cobblestone Meglio è Buona quella mela Eh, lo so Però non la tengo io Beh, hai tagliato tu l'albero Mi sembra giusto così Mi sembra giusto Ferre Dimmi Guarda che bella foresta che abbiamo Eh, lo so Mi stai un attimino stressando Sto finendo di togliere quelle foglie Mi sono incastrati in mezzo alle foglie Mi fa crescere anche gli alberi in faccia Mi fa crescere pure gli alberi in faccia Poi non ci vedo più Peggio di così non si può Dove sei mia Ferre? Eccomi Ciao Devo proprio finire tutti Che dici? Beh, sì, sai, ci serve Dobbiamo fare una bella strada Per arrivare fino all'isola Aspetta Ferre Dimmi Ho notato Cosa hai notato? Per un attimo Mi è sembrato di aver visto un'isola Più lontana di quella di sabbia No, non dirmi che dobbiamo andare ancora più lontano Cioè, se no qui non ci bastano i materiali Ma l'ho vista per mezzo secondo Ma non la vedo più Ma sei sicuro? Non è che No, sicuro no Ho furia di vivere nel cielo Magari inizi a vedere cose che non esistono, Steph Non lo so Sto continuando a guardare e non ricompare Quindi non so se me la sono immaginato Io da qui non vedo niente Quindi non ti so dire Non lo so, Fede Quando arriveremo all'isola deserta Lo scopriremo Comunque Forse mi bastano già queste slab Per arrivare alla zona della cobblestone E sarebbe stra-positivo Perché vorrebbe dire Prendere finalmente della pietra Fare una cetta per Fede Così taglia gli alberi in fretta Grazie E magari c'è anche qualche minerale qui dentro Alla fine non lo possiamo sapere No, beh, certo, certo È probabile Non lo so, è probabile Magari qualcosina c'è Io ne farei due per Fede Dato che comunque le consumerà abbastanza in fretta Perché deve tagliare un sacco di alberi Tieni Ho ripiantato tutto Tieni E dato che sono gentile Aspetta che una me la sono ripresa da solo Tieni Ok E dicevo, dato che sono gentile Ti do altro lavoro da fare Quindi Un albero Non mi riempire di lavoro Falli tu gli alberi Poi Due alberi E questo non è cresciuto Ti è andata bene Vediamo quanto ferro abbiamo da prendere Allora Uno Due Tre E ne vedo già altri tre Stra-positivo Però non voglio Uh Ne vedo tanto, Fede Abbiamo tanto ferro La vuoi una spada in ferro, Fede? Sì, sì Bello Non ce la farò mai Non ce ne facciamo nulla Anche gli utensili E magari dobbiamo combattere Mostri io per ora non ne ho visto Quanto ferro ho preso quindi Perché mi sembra che non ce ne sia altro Sette Con sette possiamo fare Beh, una spada ci esce Ma sei andata a vedere cosa c'è qui? Eh, dove? No Ti ho detto che ti avrei aspettato Non sono andata senza di te Io sono appena andato Ma dai Vieni, vieni, vieni Così non mi sento in colpa Non ho ancora guardato troppo Ho notato due particolari però Il primo particolare È che c'è dell'acqua È che ci sono i cactus Il secondo particolare che cos'è? Che ci sono i cactus Guardati intorno Noti qualcosa di particolare? Ma quell'altra isola strana Eh, magari Che cos'è? Non lo so che cos'è Ma cosa ne so? È stranissimo Appunto, è un particolare da notare E poi mi hai detto Mi hai detto Cosa noti? Io stavo guardando i miei piedi Non è che stavo guardando il cielo Poi ho detto Non c'è chiaramente nulla Quindi devo iniziare a guardarmi intorno E ho visto Comunque ho cambiato idea sulla mela Mi vanta fame Mi dai la mela Tieni Grazie Ti basta una o vuoi anche l'altra? No, no Credo che mi basti una Sono comunque a dieta Scusate Avete qualche informazione Su quell'isola? Eh sì Eh sì Su quest'isola c'è scritto che c'è un pacco per voi Davvero? Eh sì Deve averlo lasciato il postino intergalattico del cielo Ma è di Amazon? Eh non lo so Bloccazone probabilmente Bloccazone mi è piaciuto Però Sì Visto che noi siamo arrivati per primi Ok Secondo me potremmo fare i vicini molesti E aprire la corrispondenza No, no, no Non si fa C'è la multa per queste cose Eh lo so Però sei con me La tentazione Poi siamo amici Poi siamo curiosi Non ti permettere Sto facendo Sto mettendo i blocchi Il più veloce possibile Guardami Sto andando velocissimo Anna Minalo Glielo vendiamo Secondo me di là avevano un sacco di cose Minalo Minalo Stanno facendo i disgraziati Guardali Guardali Guardalo L'ha preso Ce l'hanno preso E il vostro pacco Allora il nostro pacco faceva un po' schifo Devo dire la verità Era un polpo Un polpo? Wow Perché avevate un polpo come pacco? Scusami Ci serviva per fare la lana nera Non chiedermi perché Ah ok Ok mi sembra ecco Per creare un po' di contrasto Con tutte queste nuvole bianche Però Ok Il vostro è molto più bello Sì siamo d'accordo Sai Per fare la lana Cioè noi abbiamo un blocco di lana nera No? Ok E secondo me è pochino Quindi magari sarebbe bello Avere qualcosa in cambio da voi Per darvi il diamante Ok Fere ci stanno chiedendo qualcosa Abbiamo E cosa gli possiamo dare? Abbiamo qualcosa di interessante? Una mela Una mela Del legno No del legno sì Del legno sì Se vi serve del legno Fare il letto Fere Fere Che dici? Ok allora io ne ho tanta di legno Lancia un po' di legno Anzi so cosa dobbiamo fare Aspetta fammi mettere qua al sicuro Ho appena capito tutto ragazzi Cosa hai capito? Vai La lana che cosa serve? A fare il letto Non solo C'è un'altra Eh? Il cappetto No 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 Il quadro Il quadro Ok Quindi sicuramente c'è un messaggio segreto Che noi dobbiamo avvenire vedendo il quadro Quindi mi servono i bastoncini Tieni Ok allontanati Ma ne va E te li sei ripresi ancora Aspetta ci mettiamo così con un cartello di distanza Così deve funzionare per forza Tieni Ok Ok li hai presi tu stavolta Sì Arrivederci Aspetta 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 Tenetevi pure Fere Non c'è problema Ma dai Mi sta lasciando qui Guarda Che schifo Ciao alla prossima Dai torna qui smettila Stai sprecando blocchi Fere Guarda che cos'ho Che cattivo È l'unica cosa che mi interessava Ma voi ci credete Arrivederci grazie Quindi che facciamo qua Ve la metto qui nella mia oasi Dovete sapere che io ho una piscina personale Quindi col mio blocco di diamante Non possiamo creare Andiamo ad ammazzarlo Che dite Eh ma non possiamo volare Eh ma ci facciamo un altro percorso E lo uccidiamo Non hai più dei blocchi Tu ne hai Ho 22-23 blocchi Falli veloce No 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 li sta già rompendo Seguici Seguici Oh che bello Cosa state facendogli Corri la bella No vabbè Corri 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 Si si consuma Ma che si stanno facendo Aiuto aiuto Ce la faccio Ce la faccio Ci sei? Sì 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 ce l'ho fatta Ok ci siamo tutti Aspetta che lui ha cavato Ecco Corrette Vattene vattene Ok Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Scusate Chiedo perdono Però mi ha spinto Che cattivo Ho fatto fuori solo lui Dai però non puoi fare queste cose Che cattivo Però guardate Ah no mi stai rovinando l'oasi però Sì Togli quegli stivali Mi sto ghiacciando l'acqua nell'oasi Era così bello quel diamante in mezzo Corri 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 Devi saltare Lo so Prima ce l'avevo fatta Ma qualcuno è No Porca idea In realtà sembrava che io fossi caduto Eh sì È vero È perché è qua quindi Non è chiaramente caduto Non è caduto Non è caduto Per ragazzi Lasciateci un like E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerarli da iscrivervi Per non perdere gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Ciao